In particolare la classifica che magari giornalisticamente può interessare a questo momento a metà dello spoglio in corso, vi risparmio le schede bianche, schede nulle, tutte le cose più varie ed eventuali da Totti all'Otito a quello che ciascuno ha espresso nel segreto dell'urna. In questo momento non c'è nessuno che arriva alla maggioranza, anzi al momento abbiamo contato, approssimate alla decina, 1450 voti per Marchini, 1300 voti per Lapivetti, 1250 voti per Storace, 1050 voti per Bertolaso e 950 altri. E fra gli altri ci sono Meloni, Sbai, Saltamartini, Giannini, Di Stefano, Iorio, Rampelli e poi ci sono anche cugini e condomini che però non fanno tendenza.